Salve a tutti ragazzi, sono Pagaeric, Mr.Bop, e ve l'avevamo già detto che facevamo questa let's play insieme, vi presento New Super Mario Bros. Wii, cos'è? Boh, io non ho toccato niente. Ah ok, cioè, vabbè niente, taglia. Lui è il giocatore 1, quindi per adesso è lui il controllo del coso. Io sono Mario! Allora, stiamo sperimentando un nuovo sistema di narramento azione, questi sono dei file che ho fatto, purtroppo non ce n'è ancora uno completato perché mi si sono cancellati i dati, cioè dal vecchio, e quindi questi sono dei file che ho fatto recentemente, devo andare su nuovo, nuovo, di, ah già, 2, 1? Sì, 2. 2. Cos'è? Non lo so. Ah fai, ah no ci sono, ok. Non ci sono. Luigi! Non ci sono, perché? Perché? Perché mi si sta scaricando già il joystick. Perfetto, allora, intanto vi spiego. Stiamo sperimentando un nuovo metodo di narrazione. Oh, ma gira pure! Wow! Un nuovo metodo di narrazione. In quanto lui sta parlando con un microfono e gli sta parlando con un altro microfono. Io prendo il toto blu perché è più bello. È più sexy. No, non gira più. Il mio sì. Let's play! È tipo, allora lì, sì vabbè qua c'è la storia. Oggi è il compleanno della Peach. Che giorno è oggi? Oggi è il 29. È già già il compleanno della Peach. 29 di dicembre è il compleanno della Peach. Ok. Ha vari compleanni durante l'anno. Porca puttana. Ma no, l'ha messo dentro la torta. E se hai guardato bene c'era tipo un toto. Che pasticcio! Ok, basta, basta. Possiamo già chiudere qua questa let's play. Cos'è che fanno? Non hai mai giocato in Super Mario Bros. Ci sparano i regali della Peach, che bastardi. Non hai mai giocato in Super Mario Bros. Non hai mai giocato? No. Dunque, lui non ha mai giocato. Io gioco, faccio fattica a giocare, quindi... Io ti sento poco perché qua c'è l'audio a palla della tene. Eh, prova a metterle così le cuffie. Ok. Eh, così senti... Senti l'audio. Sì, sì. Allora... Ehm... Ehm... Sì... Sì... Grazie.